Questo non è piano da fondo Però sai che non ho capito? Perché questo in realtà non va sopra No, è una meredì, la stanno lavorando e poi questa va girata così Ah, cioè adesso tu dici che stanno? Quindi loro inizialmente non fanno altro che fare un layout dei profili per come vanno messi Leggono i numeri e li collocano sulle righe che sono già uscite dalla macchina di controllo numerico Questo praticamente è quel pezzo di parete E questo qui, no? Che è quello che qua sta a filo E che poi sta... No, è questo Questo pezzo di parete che sta... La Housenwand B, che poi è questa Housenwand è questa La parte bassa però Housenwand B, scusa, è questa qua Sì La parte bassa Davanti è quelle parti fresate che poi noi vogliamo accorciare Queste parti sono le parti che saranno... Sono quelle della Housenwand B Quella che noi vogliamo cambiare è la Housenwand B No, questa a me è la parete, ma questo credo che significhi... Spesso di... No, Housen vuol dire la fuori parete di seo Non fuori, la seo Non fuori, la seo Non fuori, la seo Non fuori, la seo Senti, questo non c'entra di niente Hai visto il caricatore dei... dei... dei chiari... dei chiari... della... della... dello spara chiari? No Il chiari è un altro che è tutto... no, rodondo ah i pieti sono come nella in una casa della mitragliatrice sono tutti messi in ma ma in arma letale comunque non mi ricordo che ti ricordi ahahah ahahah pagamento ma era arma letale 1 credo fosse la 2 non mi rischiare perchè usano il morsetto perchè tutti i momenti in cui questa cata non è piana perchè poi questi pezzi di lente sono ma si 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 si